La Supercoppa Primavera 2 ha i colori biancazzurri. Il Pescara di Pierluigi Giervese sfodera l'ennesima prestazione tutto cuore tecnica e supera 3-2 il Verona al termine di una partita bellissima, giusto epilogo tra due squadre che hanno dominato i rispettivi gironi del campionato. Il tutto in un adriatico cornacchia aperto a mille spettatori. Biancazzurri capaci di ribaltare il risultato già nei primi 45 minuti recuperando due reiti ad un Verona partito fortissimo. Si diceva a primo tempo pazzesco, ricco di azioni e di gol. Il Verona è subito aggressivo, Delfino viceversa un po' contratto. Sorrentino è bravo a respingere il tiro ravvicinato di Bertini. Il Verona continua a premere al nono sugli sviluppi di un calcio d'angolo, passa in vantaggio con Coppola che sfrutta un colpo di tacco di Terracciano. I biancazzurri si scuotono e due minuti dopo si fanno vedere dalle parti di Asnar con un colpo di testa di Longobardi sotto misura al lato di Poco. I ragazzi di Irvese insistono e al diciannovesimo sfiorano il pari con un palo clamoroso colpito da Blanuta servito da Mercado. Quest'ultimo sul proseguimento dell'azione viene colpito in pieno volto. Un po' di paura iniziale ma poi il giocatore si rialza. Il Verona torna a riprendere le redini del gioco. Ventiduesimo punizione di Bertini. Sorrentino alza sulla traversa. Passano due minuti e gli scaligeri raddoppiano con un gran gol di Brigantini che mette il pallone dove Sorrentino non può proprio arrivare. I ragazzi di Corrent vogliono chiuderla e vanno vicino al Tris con Ieboa che non riesce a colpire bene da pochi passi. Il Pescara sembra in apnea ma al ventinovesimo riapre il match grazie ad un'invenzione di Belloni che azzecca un tiro chirurgico da posizione difficile. Per il giocatore si tratta del quattordicesimo gol stagionale. Il Verona reagisce al trentaquattresimo a carezza il Tris con un'azione insistita in area bianca-azzurra conclusa da Bertini che sciupa tutto. Non c'è un attimo di tregua. Ribaltamento di fronte e Pescara vicino al pari. Uscita del portiere del Verona Asnar. Blanuta lo anticipa di testa ma sul più bello c'è il recupero di Calabrese che salva in angolo. Nell'azione Asnar rimane a terra dolorante ma poi riprende il suo posto tra i pali. Finale è di tempo pazzesco. Quarantacinquesimo calcio d'angolo del Pescara e stacco imperioso di Blanuta che insacca il 2-2. L'arbitro del Rio di Reggio Emilia comanda tre minuti di recupero. A venti secondi dal termine arriva il Tris bianca-azzurro con Chiarella che si mette in proprio, recupera palla e gonfia ancora la rete del Verona. Dopo un primo tempo così ci si può attendere di tutto e invece la partita nella ripresa si placa un po'. Nel Verona subito dentro il secondo portiere Ogliani. Asnar esce probabilmente a causa dei postumi dello scontro nel finale del primo tempo. Al 59esimo slalom speciale di Chiarella che per poco non fa il poker inizia la girandola delle sostituzioni. 67esimo Verona vicino al pareggio, ripartenza veloce, Bertoni a botta sicura decisiva alla deviazione di Veroli. 74esimo Verona in avanti con la forza dei nervi. Il neoentrato Staver a vuoto, ne può approfittare Bertini che calcia in porta. Sorrentino respinge, Bragantini potrebbe ribadire verso la rete ma colpisce male. La palla finisce a Bertini ma il giocatore è in fuorigioco. Nel finale il neoentrato Sec ha l'occasione per segnare il quarto gol Biancazzurro ma obiettivamente sarebbe stata punizione troppo grande per un Verona che ha dato tutto in campo. Sì, è una vittoria di tutto il gruppo, della Pescara Calcio, del settore giovanile ma soprattutto di questi ragazzi che sono stati veramente eccezionali. Veramente dal primo giorno fino ad oggi, prima dicevo, c'erano certi che avevano problemi fisici, muscolari, hanno stretto i denti, hanno voluto giocare questa partita perché ci tenevano e hanno dimostrato veramente un senso di appartenenza alla maglia che è la cosa a cui tenevo veramente tanto perché per andare oltre bisogna sentire la maglia, se non la senti è difficile che vai oltre. Quindi loro l'hanno dimostrato per l'ennesima volta e questa è la cosa, credetemi, la cosa più bella che mi rende proprio felice. Dovevamo rimanere dentro perché altrimenti si faceva dura perché loro, ripeto, loro veramente un'ottima squadra, squadra composta da elementi che altronde molti hanno già fatto 4-5 partite in Serie A quindi giocatori forti, la squadra è stata non ammollata, poi l'Olli Belloni ci ha riaperto un attimino, ci ha ridato entusiasmo, ci ha ridato stima, autostima e siamo riusciti a ribaltare la partita. Ma ripeto, è proprio la voglia, l'anima di questa squadra che ha fatto sì che siamo riusciti a ribaltare i risultati e a vincere questa Coppa e veramente ci tenevamo tantissimo per ringraziare a parte i tifosi tutti che sono venuti ad incitarci e mi auguro, come ho detto prima, che questa possa essere la fiammella per riaccendere un po' la passione della nostra città, della nostra squadra perché come noi, ma come tanti pescaresi, lo stesso Presidente ci tiene tantissimo a riportare la squadra in Serie B e sono sicuro che farà di tutto per portare questa squadra nella categoria che compete. Guarda, io ho detto ai miei, la prima cosa che dico, non smettete mai di sognare perché obiettivamente io ho vissuto un sogno prima quello di allenare la primavera che era per me un punto importante e poi addirittura sedermi in una panchina in questo stadio che da piccolino sognavo sempre, quindi sono riuscito a raggiungere veramente questi traguardi e veramente in questo momento sono una persona molto felice. Sì, ci tenevamo tantissimo e sono contento che è arrivata la notizia, la quasi certezza della conquista della cateteria della primavera 1 e questo è veramente un obiettivo importante che i ragazzi meritavano, sarebbe stata una cosa ingiusta non dare questa categoria ai ragazzi e quindi per noi veramente era l'obiettivo primario, ci siamo riusciti e adesso pensiamo, intanto ci riposeremo e poi vedremo in futuro cosa succede. Ma la dedica la sapete a chi va, è una persona importante che non c'è più, quindi adesso la voglio vivere con lui in santa pace, come si dice, in silenzio e basta. Grazie.